Andiamo? Vai Ehm Settimane... No, mi rompe il cazzo a fare La settimana... Vabbè prova a farle, che cazzo te ne hai fotta Oh, proviamo a mandare qua, guarda Io volevo dirti di andare qua C'è tanta roba lì, eh Spicciati Ehm Questo è un po' Siamo al mezzo qua, è un po' il centro E poi c'è tanta roba, conosco Soprattutto qua c'è un sacco di roba qua E io c'ho sta coglione quella, eh Mi hanno cambiato la skin, forca putt Ma dove andiamo lì o là? Ehm... Ma c'è nessuno, no, qualcuno c'è forse Andiamo ma qua Dove che è stato? C'è... Ma andiamo di là Ma... Ma quello vanno... Le cazze che stanno andando Cioè Giuseppe... Però... Ti vedo? Ma stanno andati di altra parte quelli No, sono qui Non è sceso qua Qui Qua di fronte... Giuseppe Ehm... Mi pidoni qua, eh Ehm... Aspetta che... Non li vedo comunque Te lo dico... Dove cazzo è? Le specie ti viene che c'è mi pidoni, cazzo E ora? Non ci riesce qualcosa... Vediamo... Ma... Cazzo... Ma no... Ehm... 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 Questo è lo figlio... Ma... Ma... Ma dove sono? Ha detto che erano qua Sai dove sei? Sono operati di fronte Ah... Eccoli là... Ma sono... Ah... Ma son botto C'è uno là Ehm... Non posso... Ah... L'ho ucciso Eh... Mi fanno uccisione con il cecchino Da lontano Alla cieca E sparagliela Vabbè puoi uccidere... È a terra Alla cieca la devo fare Ah? Alla cieca la devo fare Eh... Vacci vicino Ah... E gli sbagli E come cazzo stai? E lì... Come che muore però eh... Alla poi che tanto... Sono botte questi quindi... Se becca anche la... Ah... C'è altri bidoni qua però... Ma guarda che sei fatta già Eh... Maledetto E poi che tanto ne fregava niente di fare... Speed... Eh... Hai visto che ci sono una cazzo questa Approfittane no Ma che bidoni stai? ma non è pieno ormai sono fuori che cazzo io piglio la giampa vediamo ma non è ancora morto quello no l'ha curato qua oh no ah l'ho riabattuto sparo ve lo uccido la scena è una quella eh ma è lì sprecciati no vai addosso comunque vedi che è preciso il coso alla cieco non è difficile no ma non gli sparati che è quasi morto è quello che ho colpito un po' eh è lì c'è un bidone qua però faccio lo piglio il bidone io la c'è non ci da scena ma te l'ha dato allora eh eh non lo so penso che l'hai fatta no oh oh fa viola fa viola allora vediamo un po' ehm mentre splash ripiglio allora c'è la taglia lì eh però qua c'è però qua oh porca puta non ho rifiutato eh dobbiamo venire fuori attenzione li vedo ah ah faccio più io vabbè dai cosa faccio di stonare qui per via uno stoner c'è uno scolo di merda ah andiamo che cazzo che cazzo come uccidere questi coglioni aspetta magari mi da le splash che c'è qua che fa qui eh vabbè ma chi si splash no ah ormai dai l'ho preso l'ho preso vai vado eh vedo se li vedo queste coglioni mi sa che stanno non ci ma cosa c'hanno i maccoli ti senti? sono davanti non c'è c'è città mi sa che c'è sto rumore? ah ma sono i fuochi di attività che cazzo? che cazzo stanno? ma saranno lì in mezzo ecco c'è uno là eh si ma sono montanissimo mi sparo? mi sparo eh? ma c'è gente neanche eh mi stanno sparando i bot ma che cazzo? ci inficchiamo? ah andiamo non possiamo inficcarci a voler però stai attento a petta perchè c'è più di una squadra che non ti devo stare attenti se non lo so mi sono sbagliato dai bot non ho capito non c'è po' no sono a bot eh però eh no non sono tutti i bot però eh sono so qualcosa stai sono là dentro l'ho visto entrare due eh vediamo? esatto pusciamo pusciamo cazzo ma buttaci il corsa qua eh ma intanto non ti entriamo in tre mi si che spacca tutto eh però eccolo un due te lo dico no non ho rifiutato ti pareva cazzo guarda stanno scappando che figli di puttana che cazzo sei ma sono lontanissimo ah 23 però vabbè vabbè no solo con quest'arma qui puoi colpirli comunque se riesci vabbè noi andiamo sono andati rilevanti sono andati pezzi di merda e ti salvano sempre questi rift di merda che il maiale sto maiale di merda maiale il maiale te lo dico tanto adesso ci esparano da dietro di su guarda eh guarda che c'è un po' da dietro come aspetta aspetta cosa ah ha cambiato ti ha mostrato un altro rift da dietro eh si ma questi qua vengono ah perché vengono in safe anche qui st non se li vedi eh non li vedo però come mai cazzo sta cazzo sta cazzo sta cazzo E' il gamberato Stavo cerchendo quello la potente Eccolo C'è? Cosa lascio? Lascio Tu dove che c'hai? Credo che stai portando Ah io ce l'ho Aspetta No c'è il corvo Il corvo colorato No che sfiga per un pelo Vabbè L'hai preso tu il bidone? Si Andiamo? Ma che siamo troppo in mezzo però eh Ah c'è una chiaca Ah cazzo di merda Minchia Va dietro Non gliel'ho sentito neanche Ma che cazzo la gliel'ho sentito Uno l'ho battuto Eh uno l'ho massacrato Forza puttana Aspetta 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 Siamo fuori Aspetta 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 Forse è meglio tirarlo Dove Ma qua c'è Oh oh Chi è? Ma ci sono sei splash qua eh E io ne piglio C'è qualcuno giù qua però eh Qualcuno sta venendo Eccolo Com'è eccolo No l'ho visto Si si però non aspettano di sparare Ma tu hai bisogno di cura eh No no E il bidone l'hai tirato no? E io come piccolo adesso No 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 Grazie però Ah aspetta cosa Ah vabbè dai Cosa vedi? Dove hai bisogno di splash adesso? Uno o due vai No Vai Dov'è che stavano? No No ma non Ma tanto ne ho Ma sta qua Eh ma se sono di fronte alla casa No no Ma do C'è il corpo cazzo Ma dove è finita l'arma? Ma dove è finita l'arma? Ma è rimasta qui dentro che sta Un cerchino Vai rimasta qui mi sa No l'arma che ho sparato Ma è sopra qua Ah era qua Lo vuoi tu? Eh Ah ma eh no Pensavo che era l'altro Beh andiamo 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 Questa a destra eh Beh vabbè la destra Eh vabbè la destra Ma non li vedo Poi se vediamo qua su Ma non vedo un cane Capitane Eccoli Sì Ma lì c'è una montagna Profittane Profittane Ah ma sono Ah ma se sono lì Addio eh Per cazzo stanno curando però Eh che da Ecco qui dietro qui dietro qui dietro sono eh C'è nessuno qui dietro Qualcuno è qui dietro ho visto Eh lo andiamo via Andiamogli addosso Non so se c'è quello non c'è nessuno qua Oh ho visto uno No ma era Forse hai visto qualcos'altro No ma erano Comunque quelli là erano avanti De qualche parola Non so dove Oh Cosa Minchiato lo scasso quel cazzo di cosa Spai giù Porca puttana Ah ma è l'attento da dietro eh Da dietro come da dietro Non credo che Ma era uno solo mi sa Porca puttana è scappato Ecco Ce l'abbiamo dietro eh Ok Oh c'è c'è Kino d'oro là Aspetta Vieni qua un attimo Se c'è qualcuno qua Non lo so Ma qua c'è C'è questo eh Se non lo pì Tu lo pì Uh Non lo so Non lo so Vieni Vieni Hanno stato il rift Mi sa E se Infatti sono in tre Stanno scappando Guarda come si rincorrono Ma Ma uno è proprio Qua davanti eh Porca miseria Ma che cazzo è successo Eccolo io Madoo Madoo Minchia l'ho fatto Minchia l'ho battuto da quello Cazzo L'ho fatto 180 Non riesco a finirlo da qua eh Ma forse si aspetta Noo 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 Oh oh Eccolo Parlando dei 5 E' così morto Sta scappando Giulia Sparagli cazzo Perché non gli spari cazzo Sparagli noo E' così morto cazzo Non lo piglio Ah non lo piglio Oh l'ho colpito ma non lo prende Ma che cazzo di bug che c'ho la mia No ma è bugato la mia arma Dai l'ho colpito bene Non lo colpiva Non è possibile Era quasi morto col testo di cazzo Ma c'è qua qualcuno dietro Non lo piglio Devi sparare sempre Perché devi sparare tutte ogni volta Devi farle scappare E ora andiamo avanti Ma dobbiamo metterci in un punto Non so se andare Forse a destra è meglio Perché a sinistra non ci sono Coperture Se c'è qualcuno qua dobbiamo ucciderlo Te lo dico eh Era meglio se mi prendevo un'arma da vicino Però Sono sfondato Approfittane Stanno qua e te lo dico eh Aspetta aspetta Quello si ferma Ma do L'ho colpito l'ho fatto malissimo eh Morda Gli ho fatto 190 gli avevo fatto Sarà amico di merda allora No è morto diretto Ah è morto? Quello si ma c'è Ecco di fronte stanno li vedi? Sì E infatti stava sparando Quattro Guarda cosa è che c'era Giornalci Ce l'abbiamo appena a sinistra Ma pure c'è qualcuno qua davanti Sono lì eh Stanno sparando qualcuno di là Aspetta aspetta vediamo se dove stanno quelli nelle non c'è spunto c'è un po' non c'è spunto benzinaio dovrebbero stare quelli per quanto non l'ho preso quello ma dove c'è sta attento attento ma dov'è beh dietro la benzina sta ma io li faccio se si esplode la benzina a 70 qualcuno l'ho colpito attento che quelli da capo potrebbero venirci addosso forse stanno andando a quelli forse dove cazzo stanno andando oh merda ci devono posizionarci anche però eh dove cazzo andiamo oh c'è uno qua pezzo di merda era nascosto dietro il coso attento sopra 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 arriva arriva percato quello orca troia ma quanti sono merda eh devo mettere il bidone lea sennò son morto metterlo ah l'ho battuto uno la sopra eh porca puttana minchia dobbiamo spaccargli tutto a quello ah l'ho fatta cadere minchia l'ho beccato e preciso dove erano beh quello l'ho ucciso va fa il culo oh attento l'altro dietro è quasi morto è quasi morto è bianchissimo giuse no non quello però l'altro no che mira di merda no la dove e uno so quanti sono ma quanti siamo uno è battuto eh ah gliel'ho ucciso ne manca uno eh non so dov'è è la uno è la è l'altro ah era sopra eccoli approfittene aaaaaaah caglione hai figa che vero hai figa